prepararsi a una sessione di rilassamento cosciente e voluto innanzitutto trovare una sistemazione comoda su un letto una poltrona per terra utilizzando uno o più cuscini ad esempio un cuscinetto sotto la testa un guscino più grande o addirittura una sgabello sotto le gambe per avere la schiena distesa o altri supporti che ci sembrano necessari e infine in rapporto alla temperatura coprirsi adeguatamente la prima cosa è ascoltare il proprio corpo e sentire se c'è l'esigenza se nasce l'esigenza di fare qualche piccolo movimento di stiracchiarsi di assestare la propria posizione ed è bene eventualmente seguire questi impulsi queste necessità spontanee stiracchiandosi stiracchiando tutto il corpo o parti di esso fare movimenti e massaggiare il viso passare sul cuoio capelluto scivolare sugli occhi le sopracciglia sulle guance sulle labbra toccare massaggiare le orecchie e ancora spalancare la bocca fare dei movimenti di apertura e chiusura dei movimenti destra e sinistra della mandibola o avanti e dietro per sciogliere l'articolazione della mandibola e favorire fare così il rilassamento della stessa poi si può spalancare la bocca allungare fuori la lingua con la punta rivolta verso il mento e fare qualche respiro attraverso la bocca facendo passare l'aria sopra la lingua e poi ancora osservare se abbiamo bisogno di qualche altro movimento massaggio sfioramento prima di decidere di rimanere completamente immobili proviamo a rimanere completamente immobili e quindi sappiamo che il primo passaggio è rilassare l'espressione del viso proviamo a rilassare l'espressione del viso grazie a tutti 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 per색are la muscia nella forma corpo successivamente facciamo un breve inventario delle varie parti del corpo o dalla testa verso i piedi o dai piedi verso la testa, nominiamo le parti più importanti e ascoltiamo la sensazione che proviene dalla parte su cui ci concentriamo senza mai perdere di vista l'insieme grazie a tutti grazie a tutti ora ascoltiamo il movimento della respirazione possiamo suddividere l'ascolto in una prima fase in cui sentiamo l'aria che entra e che esce attraverso il naso e la bocca socchiusa grazie a tutti 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 dove accade dove avviene principalmente questo movimento e lo seguiamo grazie a tutti 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 che effettivamente sentiamo come se dovessimo disegnare la sensazione che abbiamo su un foglio o modellare con la creta la forma che realmente sentiamo in questo momento di avere la creta la creta la creta la creta la crema che sentiamo effettivamente in questo momento ascoltiamo la consistenza quindi sentiamo che consistenza sentiamo di noi dentro questa forma che realmente sentiamo grazie 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 Osserviamo di nuovo. L'espressione del nostro viso, la sensazione di contatto e di pesantezza, un breve inventario di tutte le parti del nostro corpo e della sensazione che proviene da ogni parte, l'aria che entra e che esce e il movimento della respirazione dentro il nostro corpo. La forma, la consistenza, il volume. La sensazione del nostro corpo. La sensazione del nostro corpo. La sensazione del nostro corpo. Di nuovo, osserviamo il viso. La sensazione di contatto e pesantezza. Tutte le sensazioni che provengono dal nostro corpo in maniera spontanea. Il movimento della respirazione. La forma, la consistenza, il volume del nostro corpo. E proseguiamo in questa osservazione. Grazie. 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 Grazie.